Carissimi paesani, ovunque vigilate, con l'onore e il piacere di rivolgere a voi tutti, grandi e piccini, giovani e anziani, i miei più cari e sentiti auguri per le prossime feste di Natale e Capodanno, a nome personale e di tutta la nostra gloriosa associazione culturale. E' immenso il piacere e la gioia di poterlo fare ancora una volta, perché io vi voglio bene. Dovunque vi trovate, per qualsiasi età avete, io vi tengo tutti nel cuore, dovreste sapere quando, quando, quando io vi amo, perché mi sento nel cuore di averlo fatto da piccolo. Prego, la Madonna dell'Oltare, dove io mi son fatto grande, col Dio prese son concesso, perché vi dia a tutti, grandi e piccini, piccini e lontani, la gioia di una età anziana, per poterli sempre ricordare della nostra cara palena e dei vostri cari paesani. Non aggiungo altro, perché in queste circosanze le parole non servono, servono i pensieri del cuore, come adesso io vi sento. E vi auguro con tutto il mio cuore e con il cuore dei miei soci e dei miei cari compagni dell'Associazione, di più cari auguri per le prossime sante feste di Natale e di Capodanno e di Vapetano. A nome di tutti noi, tanti, tanti auguri, gli auguri più belli, più belli, più belli. E io prego, sentite bene, la Madonna dell'Oltare, che per me è come una mamma, perché mi sono fatto grande là sopra. prego, sentite bene, la Madonna dell'Oltare, che vi benedica a tutti, benedica a tutte le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri creditori, e tanti, tanti, tanti auguri e buon Natale e felice anno nuovo. Ciao, ciao, ciao i paesi anni, è un bariore grosso.